E' una call dedicata a progetti che si chiama Small Scale Projects, mi scusi in anticipo perché le slide sono un po' ibride, alcune slide sono in inglese perché sono derivate da una presentazione ufficiale che è stata fatta dalla Commissione Europea più o meno un paio di settimane fa, quindi prima del lancio del bando. Ok, vediamo se riesciamo a scorrere le slide. Ok, perfetto. Ora, mi dovrei riuscire a tornare alla modalità. Ok, perfetto. Ora, la Commissione Europea, diciamo recentemente, a luglio di quest'anno, ha varato un nuovo fondo che si chiama appunto Innovation Fund. Questo è, penso, il più grande programma di finanziamento varato dall'Europa e forse uno dei più, dimensionalmente, uno dei più grandi a livello mondiale che riguarda tecnologie innovative a bassa emissione di carbonio. Questo programma si inserisce nell'ambito di un accordo più vasto di cui sicuramente avrete sentito parlare, si chiama Green Deal. Un accordo tra tutti gli stati membri che ha come obiettivo quello di ridurre, ovviamente, le emissioni di gas serva da qui nei prossimi dieci anni. È un programma particolarmente importante dal punto di vista degli investimenti perché stiamo parlando di 10 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, quindi nel periodo 2020-2030, per cui queste che sono uscite adesso sono solo le prime call, sono un po' la punta dell'iceberg. In realtà, nei prossimi dieci anni ci saranno altre call, forse anche più importanti economicamente di quella di cui parleremo oggi. chiaramente l'Europa ha con obiettivo quello di sostenere la dimostrazione commerciale di tecnologie innovative a bassa emissione di carbonio con l'obiettivo ambizioso di portare sul mercato delle nuove soluzioni industriali per decarbonizzare l'Europa e ridurre, non soltanto ridurre le emissioni dirette di CO2, ma a sostenere tecnologie che permettono anche la cattura, lo stoccaggio della CO2 emessa. Questo ovviamente con l'obiettivo di arrivare a quella che si chiama appunto neutralità climatica. Quindi la Commissione Europea ha come obiettivo quello di aiutare imprese del settore energetico, ma non solo, stiamo parlando diciamo di vari settori, tutti che fanno parte di quello del comparto ETS, sicuramente conoscerete comunque sia quello che si chiama appunto emission trading system, e di questo comparto fanno parte settori molto vari che vanno appunto dalla produzione energetica, non so, produzione di cemento, di clinker, acciaierie, industrie metallurgiche, industrie chimiche e via dicendo, sono tutte quelle industrie che sono classificate come ad alta intensità energetica. E come ha intenzione di fare questo? Supportando innovazione in quattro aree strategiche, che sono appunto le industrie di alta intensità energetica, le energie rinnovabili, lo stoccaggio dell'energy storage, quindi lo sviluppo di sistemi di accumulo, e la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo della CO2. Per fare questo l'Europa eroga supporto attraverso dei bandi, il primo è questo, e in particolare questo qua è un bando dedicato a progetti di piccola scala, per piccola scala vedremo cosa si intende, che finanziano tecnologie e processi innovative a basse emissioni, e che finanziano sostanzialmente tecnologie, quelle che si chiamano dirompenti comunque, disruptive technologies. Come ho detto prima, i settori chiave che riguardano il bando, i quattro grandi temi sono le energie rinnovabili, carbon carbure e storage, le industrie di alta intensità energetica, e i sistemi di accumulo dell'energia. Una cosa importante è che questo bando, il bando di cui parleremo oggi, non finanzia la ricerca e sviluppo di base, quindi quella che si chiama bassa TRL, quindi bassa tecnologica INES, ma piuttosto lo sviluppo di soluzioni vicine al mercato, quindi finanzia progetti di scaling up. I progetti quindi devono essere dei progetti di dimostrazione su scala pilota, ma più che scala pilota, devono essere proprio dei re-scale, cioè tipicamente prima applicazione commerciale, o prima replicazione commerciale di tecnologie che sono molto vicine al mercato. Le caratteristiche principali di questo bando, quindi del bando small scale, sono sostanzialmente quelle riassunte in questa slide. La Col ha una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, 100 milioni di euro con cui l'Europa si aspetta di finanziare più o meno 20-30 progetti in tutta Europa, per cui non sono contributi a pioggia, ma la selezione è piuttosto alta. La dimensione dei progetti, per quanto diciamo sia uno small scale, è piuttosto importante, perché prevede investimenti in conto capitale fino a 7 milioni e mezzo di euro, quindi da un minimo di 2,5 a un massimo di 7,5 milioni. I settori elegibili sono quelli che abbiamo detto prima, rinnovabili, industria alta e intensità energetica, catture e stoccaggio di CO2, energy storage, e i settori in particolare che hanno a che fare con questo bando sono quelli che rientrano nell'ambito ETS, tant'è vero che si fa riferimento nel bando allegato ad un annex alla direttiva ETS. Il contributo a fondo perduto è piuttosto importante, stiamo parlando del 60% del totale dei costi elegibili, la quale è aperta dal 1 dicembre e la scadenza del bando è il 10 marzo 2021. Come dicevo prima, stiamo parlando di progetti che devono essere in qualche modo per tecnologie ready to market, la Commissione europea sostanzialmente dice che l'ideale sarebbe coinvolgere i clienti finali nell'ambito del progetto, i clienti finali ovviamente possono essere coinvolti in maniera diretta, cioè potrebbero essere dei partner del progetto, oppure potrebbero essere anche degli stakeholder, quindi che firmano un commitment all'installazione, stiamo parlando comunque sia di installazione di nuove tecnologie di processo perché siccome parliamo comunque di costi che vanno dai 2 milioni e mezzo ai 7 milioni e mezzo, stiamo parlando di progetti particolarmente grossi, importanti e ci si aspetta che ci sia uno o più clienti finali che ospitino l'installazione di queste tecnologie innovative. I requisiti di leggibilità dei proponenti quali sono? Allora, possono partecipare a questo bando imprese, enti pubblici o privati, pubblici o privati di qualsiasi dimensione, quindi possono essere diciamo delle micro piccole imprese, medie imprese, grandi imprese, enti di ricerca, appunto come i nostri colleghi di Enea, però questo bando è limitato solo alle persone giuridiche, quindi non possono partecipare al bando persone fisiche, le azioni devono essere implementate all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, quindi un'installazione in Africa non va bene, una cosa interessante è che possono partecipare al bando anche singoli applicanti, quindi non è necessario un consorzio internazionale, questo è un requisito ben diverso dai bandi tradizionali di Horizon 2020, in cui sono richiesti almeno tre partner da tre diversi stati membri. È ammessa la rendicontazione dei costi di entità affiliate, questo significa che un'azienda, per esempio un capogruppo, potrebbe poi rendicontare costi anche di controllate facenti parte del gruppo stesso. Il coordinatore deve essere direttamente responsabile del management, quindi non possono diciamo applicare a questo bando dei meri intermediari, quindi realtà che fanno soltanto gestione di progetti, i famosi capo commessa, cioè chi applica deve essere una realtà che deve dimostrare di saper fare. Il coordinatore infatti deve dimostrare capacità operativa, esperienza e know-how in relazione al progetto che è presentato. Deve anche dimostrare ovviamente quella capacità e solidità finanziaria che gli permette di portare il progetto a compimento, perché quindi su questo bando difficilmente ad esempio una piccola start-up innovativa risulterebbe credibile agli occhi di un valutatore, quindi diciamo che sono questi un po' i requisiti che deve avere il coordinatore. Il progetto invece come deve essere strutturato? Allora, qui le cose sono un po' complesse, però in realtà la commissione ha schematizzato bene la cosa, quindi c'è una fase di progettazione della tecnologia proposta e questa praticamente si conclude in quello che loro chiamano financial close, che deve durare al massimo 48 mesi. ovviamente diciamo ci sarà una prima fase di preparazione del progetto, che significa da oggi al 10 marzo, ecco i costi sostenuti per questa fase di preparazione del progetto non sono ovviamente leggibili, sono leggibili solo i costi sostenuti dopo la firma del grant. e diciamo che a livello di timeline la commissione si aspetta di metterci più o meno dai 3 ai 5 mesi per le valutazioni dei progetti, per cui il grant con la commissione potrebbe essere firmato tentativamente tra luglio e settembre 2021. Il 40% del grant viene erogato indipendentemente dalla verifica degli impatti, adesso vi spiegherò meglio cosa significa, quindi il 40% del beneficio economico richiesto viene erogato nella fase tra la firma del grant e il financial close, il restante 60% invece viene erogato in una fase successiva, che significa che dopo la fase di progettazione esecutiva il proponente inizierà la fase di costruzione, cioè di implementazione tecnologica, questa dovrebbe al massimo durare 2-3 anni e deve condurre ad una fase operativa, cioè di quella che chiamano entry into operation della nuova tecnologia, del nuovo processo, potrebbe essere, non lo so, uno dice io propongo sul mercato un nuovo tipo di turbina per generare energia elettrica in maniera rinnovabile sfruttando, non so, ponti idroelettriche, faccio un esempio che potrebbe essere noto a qualcuno di voi. Ecco, dopo l'entrata in operatività di questa turbina ci sarà un periodo di monitoraggio delle emissioni, o meglio del saving, cioè quindi di quanto uno risparmia in termini di emissioni di CO2. Questo periodo va da tre anni, che è proprio il default, a un massimo di 10 anni. Il 60% del grant viene pagato in base al raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione di queste emissioni di CO2 e quindi è una specie di, diciamo, pay per view e la commissione pagherà il 100% del grant solo se si raggiunge almeno il 75% del saving di CO2 dichiarato in fase di proposta progettuale. Quindi uno, in qualche modo, deve mantenere le promesse che fa in fase di progetto. È un po', come dire, un'ottica un po' diversa da quella a cui siamo abituati noi con i nostri politici italiani che magari in fase di elezione promettono di raggiungere degli obiettivi e poi invece non li mantengono e i soldi li prendono lo stesso. Qua la commissione, in questo bando, ha voluto in qualche modo utilizzare una logica pay per view. Quindi tu mi prometti con la tua tecnologia di evitare, per esempio, mille tonnellate all'anno di CO2. Ecco, se tu risparmi almeno 750 tonnellate, ti... hai diritto a ricevere il 100% del grant, viceversa per ogni tonnellata in meno io ti tolgo 100 euro. Facciamo per dire. Questo è un po' lo schema che riassume quello che ho detto prima. Quindi c'è la fase di preparazione del progetto, che sono praticamente i prossimi 6-9 mesi. Poi viene, il grant viene in qualche modo decretato, quindi l'azienda riceve il finanziamento, firma il grant. A quel punto, da quel momento, fino alla fase di rendicontazione, la Commissione Europea gli riconosce il 40% del grant, che non dipende dalla verifica delle emissioni. C'è la fase di costruzione e realizzazione della tecnologia. Questa tecnologia entra in attività dopo un certo periodo. Da quel momento parte la fase di reporting e di monitoraggio e il 60% del grant è condizionato appunto alla... alla quantità di CO2 che viene in qualche modo non emessa in ambiente. I criteri di premialità, che credo che siano una delle cose fondamentali di questo bando, cioè per vincere il bando, diciamo, su questo bando, che cosa bisogna fare? Allora, prima di tutto, il primo criterio, ovviamente, è la quantità di gas serra che si risparmiano, cioè quindi le emissioni evitate in atmosfera. Il calcolo di queste emissioni viene fatto secondo una... quella che loro chiamano simplified methodology, in realtà questa simplified methodology è un documento di 60 pagine, quindi semplificata per modo di dire, però comunque sia... esiste una procedura che in qualche modo la Commissione ha codificato in questo documento e quella bisogna seguire per determinare l'emissione di CO2 risparmiate. Criterio 2 è l'innovazione, nel senso che deve essere una tecnologia ben oltre lo stato dell'arte, quindi quella che è beyond the state of the art e beyond incremental innovation, torneremo dopo su questo punto. livello di maturità del progetto, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista finanziario, il grado di replicazione, quella che loro chiamano scalability, cioè quanto questo progetto ha la capacità di essere replicato successivamente, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, a livello cross-settoriale, a livello economico, quindi qual è anche l'impatto di questo progetto sulla sull'economia, non soltanto quindi sul piano di business, piano industriale del proponente, ma anche su tutto l'indotto che ci sta dietro e anche sul settore. L'efficienza dei costi, che significa? Significa in qualche modo questo segue da un calcoletto matematico, quindi quanti euro di contributo richiesto per tonnellate di CO2 evitate? Sostanzialmente la mia tecnologia costa, supponiamo 5 milioni di euro, io evito in ambiente mille tonnellate all'anno di CO2, il mio parametro di cost efficiency è 5 mila. Se un mio competitor propone la stessa tecnologia che costa 3 milioni e mezzo, ovviamente la sua è più efficiente dal punto di vista dei costi rispetto alla mia e molto probabilmente vincerà lui il bando. Per entrare un attimo nel dettaglio, appunto dicevo prima, i gas serra vengono, diciamo in qualche modo, devono essere stimati e calcolati secondo i criteri che la commissione ha stabilito in questo famoso documento, i sottocriteri sono due, riguardano le emissioni di gas serra assolute e quelle relative. Quelle assolute che significa praticamente la differenza tra le emissioni di gas serra attese in uno scenario in cui la mia tecnologia non esiste, le emissioni relative invece sono relative ad uno scenario di riferimento in cui comunque sia un qualche tipo di evoluzione tecnologica ci sarà, quindi questi sono un po' i due sottocriteri. poi in realtà diciamo in termini del bando le cose sono un po' più complesse però oggi non c'è tempo per entrare nei dettagli di questo. Chi fosse interessato ovviamente dovremmo affrontare un po' il discorso e l'argomento caso per caso. Il grado di innovazione abbiamo detto prima, i progetti devono essere oltre lo stato dell'arte quindi chiaramente vi verrà chiesto e viene chiesto nel form di progetto di confrontarsi con lo stato dell'arte del vostro settore. Il progetto deve essere un first of kind commercialization o commercial size demonstration quindi praticamente tecnologie che sono già arrivate ad uno stadio commerciale per cui diciamo esistono già n casi diciamo n casi studio probabilmente non saranno così appetibili è più probabile che finanzieranno progetti con tecnologie che sono diciamo non sono ancora arrivata alla fase di commercializzazione e magari quei casi in cui si trova un primo cliente che dice sì bellissimo questa tecnologia mi piace vieni e la installi per la prima volta a casa mia. Il progetto deve andare ben oltre diciamo quella che è incremental innovation quindi le tecnologie proposte devono essere dirompenti come dicevo prima e ovviamente l'innovazione può consistere non è solo limitata l'innovazione tecnica ma l'innovazione di processo l'innovazione in termini di modelli di business quindi quando si parla di innovazione si devono guardare tutte le varie sfaccettature di questo termine poi vabbè la commissione incoraggia diciamo con dei criteri di premialità determinate attività che riguardano per esempio la cattura diretta della CO2 la rimozione diretta di CO2 in processi emissivi stiamo parlando di emissioni dirette ad esempio in acciaieria oppure la sostituzione di prodotti e quindi la riduzione di quelle che si chiamano embedded emission quindi emissioni di CO2 che sono in qualche modo conglomerate alla produzione di un determinato di un determinato bene c'è una cosa da fare da osservare che c'è un annexe B a questa call particolarmente dettagliato saranno due o tre pagine in cui la commissione spiega molto molto bene che tipo di che cosa intende per innovazione e che tipo di progetti si aspetta quindi devono essere tecnologie non ancora disponibili in commercio e bisogna fare un confronto con lo stato dell'arte a livello mondiale quindi non semplicemente guardare cosa ha fatto il vicino della porta accanto devono essere breakthrough solutions quindi innovazione di rompente progetti di innovazione incrementale rispetto allo stato dell'arte molto probabilmente non sono finanziabili le tecnologie però devono essere sufficientemente mature per essere dimostrate su scala reale quindi precommerciale non prototipi di ricerca quindi non ci si aspetta che siano se io ah questo qui è il primo prototipo però non è ancora dimensioni su scala industriale ecco quelle cose lì vengono considerate come una ricerca industriale che in questo caso non è non è papabile devono essere progetti dimostrativi su scala reale quindi o di prima commercializzazione o di dimostrazione commerciale di processi collaudati in precedenza a livello pilota o prototipale e poi ovviamente ci deve essere dietro anche quella che chiamano business innovation cioè devono essere progetti che in qualche modo combinano la dimostrazione tecnologica con lo scouting dei primi clienti questo è il motivo per cui la commissione incoraggia coinvolgere a livello di progetto i famosi panel customers quindi i primi i primi casi studio la maturità del progetto viene valutata sulla base di due diversi aspetti una è la maturità tecnica e l'altra è la maturità in qualche modo finanziaria che significa che ovviamente l'implementation maturica è collegata con la fattibilità tecnica la credibilità del piano di implementazione il team che propone il progetto tutte le procedure autorizzative i memorandum of understanding con gli eventuali clienti la financial maturity invece è legata proprio alla solidità del piano finanziario che uno propone per il progetto la scalability come dicevamo prima è legata invece al potenziale di replicazione del progetto a livello geografico intersettoriale economico l'efficienza dei costi era quella che dicevo prima quindi uno deve fare un semplice rapporto quindi uno fa una stima dei costi legati alla sua tecnologia e lo divide per il totale delle emissioni che uno diciamo può evitare nei dieci anni dopo l'entry to operation del progetto quindi da questo rapporto si misura in qualche modo la cost efficiency vi ricordo che questo è un progetto che finanzia costi quindi in termini di capex del progetto quindi costi di costruzione infrastrutturazione costi di sviluppo asset intangibili e quant'altro che sono al massimo 7,5 milioni e minimo 2,5 milioni questi capex peraltro devono essere anche certificati da un auditor indipendente per cui a un certo punto la commissione richiederà conto una qualche modo una certificazione del costo non basta dichiararlo la timeline il progetto è stato il bando è stato lanciato il primo dicembre è stato fatto un primo webinar il 9 che ho seguito altri webinar specifici seguiranno a gennaio tenete conto che la deadline per la sottomissione di una proposta che è one stage quindi sostanzialmente un progetto che sarà più o meno un centinaio di pagine è il 10 marzo agosto si informeranno come dicevo prima i proponenti dei risultati e molto probabilmente il grant sarà firmato a settembre io ho concluso in conclusione ecco questi sono i miei contatti che avete la mia email e il mio numero di telefono a questo punto lascerei spazio per 5 minuti di domande però se avete diciamo quesiti specifici volete approfondire i vostri specifici progetti io sono a disposizione vi prego di contattarmi via email così organizziamo possiamo organizzare una call dedicata a questo vi ringrazio a questo